È arrivato quel fatidico momento dell'anno. Basta scambiare i cosplay per costume di carnevale. Ti prego, basta! Cosa succede in questo periodo dell'anno? Succede che molti pensano che cosplay sia un nuovo modo, molto figo, per dire Yeah, costume di carnevale, bellino! No, no, il cosplay non è un costume che si usa a carnevale, o meglio. Tu puoi scegliere di indossare un abito che ricorda un supereroe, magari la tutina dell'uomo ragno comprata nel supermercato come usava quando avevo 10 anni io, quindi si parla di 20 anni fa. Va bene, quello non è un cosplay. Il cosplay è un'altra cosa. Nel cosplay si realizzano costumi di altissimo valore, a prescindere che siano fatti più o meno bene, da persone più o meno esperte. Non importa. Quello che importa è che per la persona che indossa quel costume non è solo un costume, non è una carnevalata e soprattutto è la persona che sceglie di rischiare di andare a una festa dove gli possono spruzzare le stelle filanti e rovinare un vestito da 500 euro, 1000 euro, 5000 euro. Ragazzi, no, il cosplay non è carnevale. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te, the Italian way to make cosplay. E oltre a aiutare le persone a realizzare i costumi dei loro sogni nel modo più bello e divertente possibile, la mia missione è anche quella di innalzare il cosplay a un'arte riconosciuta. Quindi andiamo avanti. Allora, ti verrebbe mai in mente di paragonare un personaggio del corteo storico con quegli abiti super bellissimi a un costume di carnevale che si usa alle elementari o a una festa in discoteca, un costume magari fatto in 5 minuti, cioè rappezzato, insomma che sai che tanto anche se ti si rovina chi se ne frega. No, il cosplay non è questo. E se sei un cosplayer o un larper, perché anche i larper hanno questo stesso identico problema, ti prego condividi il mio video così che più persone possibile possano sapere che cosa significa davvero cosplay. Cosplay viene da costume, play, dove play non sta per gioco, o meglio, non solo per gioco. Play in inglese è un verbo bellissimo, perché in sé racchiude il gioco, ma soprattutto la recita, l'interpretazione, il suonare. Play è un verbo versatilissimo, è un verbo bellissimo che ci ha accompagnato dall'inizio dei tempi. Quindi il cosplay, che è anche una disciplina che è nata tanti tanti anni fa, che ha dei valori, non è indossare per mezza giornata un costume di poco valore, fare una festicciola, fare bisboccia, magari rovinarsi quel costume o strapparselo, chi se ne frega. No! Il cosplay è realizzare degli abiti da indossare e interpretare un personaggio. Se vai in un museo e vedi una persona che interpreta Dante, che fai? Gli vai a lanciare le stelle filanti? Gli vai a strattonare il vestito? Guarda che quel Dante è un cosplayer. Non lo sa, perché molto probabilmente non lo sa, perché è una cosa che è più in voga tra i giovani. Ma se hai un costume che rispecchia un personaggio e interpreti quel personaggio, tu sei un cosplayer. Se sei nella rievocazione storica, ad esempio, tu potresti essere un cosplayer se hai, se interpreti un personaggio, e non me ne abbiano i rievocatori storici che ammiro tantissimo e che ho sempre apprezzato fin da quando sono piccola, ma da un certo punto di vista, chi interpreta un personaggio storico e ne indossa il costume, è la stessa filosofia con cui realizziamo i nostri costumi e interpretiamo i nostri personaggi, noi cosplayer. Quindi, perché il costume storico o il Dante al museo è rispettato e un abito, una persona che fa cosplay non lo è? Carnevale non è cosplay. Quindi, ti prego, condividi questo messaggio e aiutami a diffondere quest'arte. Perché per il cosplay, per realizzare un costume cosplay è tutto ciò che ci gira intorno, perché non è solo il costume, la parrucca, il trucco, gli accessori, eventuali armi, bastoni, prop, eventuali protesi realizzate in lattice, le cose che devi saper realizzare o che devi acquistare per realizzare un costume completo da indossare sono talmente tante che paragonarle al carnevale è veramente umiliante. Ora, io magari sembro esagerare, però se non conosci questo mondo, cerca di capirmi. Se vuoi proprio paragonare, vuoi avere un'idea di che cosa significa, te immagina i vestiti più belli che vedi del carnevale di Venezia, che è un carnevale che è tutto a sé rispetto ai carnevali che si fanno alle scuole o che si fanno negli ambienti di paese. Quello è un luogo dove ci sono degli abiti di altissimo valore, realizzati da artigiani o anche realizzati in casa, ma che costano un sacco, che sono costati un sacco in termini di materiali, tempo, lavoro, acquisizione di abilità e non ti azzardare a sparare una stella filante. Cioè, io penso che non ti verrebbe mai in mente di sparare una stella filante su uno di quei costumi, su una delle maschere. E perché vogliamo continuare a paragonare il cosplay al carnevale di basso livello? Mi raccomando, ti prego, diffondi questa voce e aiutaci ad emergere. Perché la creatività che c'è dietro questo hobby, che per tanti è diventato un lavoro, è immensa. Le possibilità che ci sono per legare tra persone, le possibilità di tramandare mestieri antichi, come nel mio caso, io cerco di reinterpretare la sartoria tradizionale, le tecniche tradizionali rubate anche da altri mestieri e inserirle nel cosplay per tramandarle. Io voglio che le persone possano realizzare costumi spettacolari con tecniche tradizionali e tramandarle alle generazioni future. Ma voglio che nel frattempo si divertono. Quindi, se pensi che un costume cosplay possa costare quanto un costume di carnevale che compri al supermercato o compri sugli shop online a poco prezzo, scordatelo. I cosplay sono costumi che costano tanto. Soprattutto se realizzati a mano da artigiani, costano quanto la sartoria su misura, se non di più, perché richiedono tante tante più abilità. Detto questo, io sono sicura che da questo momento in poi tu non scambierai più il cosplay con il carnevale e che sarai dal nostro lato per difendere quest'arte che esiste da tantissimo, come parlavamo prima del nostro Dante e che è quello che i giovani usano per tramandare le tradizioni. anche se lo fanno attraverso personaggi immaginari magari, personaggi inesistenti. Non importa. La creatività che c'è nel cosplay, nel realizzare tutti quanti i passaggi, i pezzi, tutti quanti i settori, sono qualcosa che manderà avanti le tecniche tradizionali e che le influenzerà con le tecniche innovative. Ti prego, se questo video ti è piaciuto e se pensi che sia importante condividilo, metti mi piace e commenta e dimmi la tua opinione. Io sono Veronica Forconi di CosplayFaiDatTe e mi trovi su Facebook, Instagram e YouTube dove condivido materiali informativi ma soprattutto tutorial, guide e informazioni per realizzare costume spettacolari. Ci vediamo presto. Ciao!